è doveroso fare una seconda parte di previsioni per quanto riguarda l'ascendente vergine ragazzi l'ascendente se avete l'ascendente vergine e tanti pianeti in vergine in prima casa questo oroscopo fa per voi allora c'è già la prima parte nel video nel reel precedente a questo nel quale spiegavo le ipotetiche circostanze che si sarebbero potute verificare con l'ingresso di saturno opposto all'ascendente vergine che dal 7 marzo in 2023 entrerà nel segno dei pesci e ne uscirà nel 2026 a marzo 2026 se non erro quindi tre anni quindi nel post precedente nel video precedente ho detto che se ci sono delle relazioni pregresse queste possono arrivare ad un esito quindi o diventano importanti si consolidano o finiscono la stessa cosa del lavoro una copiosa quantità di voi ascendente vergine però ma scritto guarda che qua non c'è nel lavoro nell'amore quindi che facciamo avete perfettamente ragione allora per quelli che non hanno il lavoro e che non hanno l'amore volevo dirvi da tanto tempo volevo dirvi o comunque che sì c'è stato ma insomma alti e bassi situazioni precarie quindi niente di insomma poca gente con cui andare a un matrimonio per intenderci o da presentare la notte di natale a in famiglia sappiate che voi state subendo il lungo transito di plutone in capricorno nel settore quinto se avete l'ascendente vergine a tal proposito ci sono i video di plutoni in capricorno se ce la faccio metto il link qui e quindi da maggio avrete un ottimo trigono ragazzi un ottimo trigono di giove e quindi dal 16 maggio in realtà le cose interessanti possono accadere anche prima però l'ufficialità cioè io conosco uno domani però diventa una cosa insomma no seria una frequenza diventa una cosa stabile nella mia vita a partire molto probabilmente da maggio 2023 ergo con saturno l'amore arriva se non c'è nulla in settima casa quindi se non abbiamo un lavoro se non abbiamo un contratto se non abbiamo un marito un fidanzato con saturno arriva e ragazzi mi raccomando non sprecate magari siccome ci saranno i transiti molto belli non vi sprecate o a svolazzare di fiore in fiore o a fare delle scelte così superficiali magari soltanto dettate così dall'apparenza dall'attrazione fisica perché perché saturno nei prossimi tre anni ma soprattutto per voi dal 16 maggio 2023 al fine maggio 2024 per voi arriva la persona saturno in settima ragazzi è il transito che fa che fa arrivare le persone destinate perché fa arrivare colui che sarà vostro marito colui che sarà con lei che sarà vostra moglie vale per i gay per gli etero ok per tutti la settima casa è il rapporto ufficiale un saturno in settima casa soprattutto con un trigono di giove da maggio 2023 a maggio 2024 con un sestile di plutone arriva arriva l'amore quindi siate ragazzi siete prudenti osservate le persone non vi fate portare dall'emotività saturno premiera questo perché l'ascendente vergine avendo un discendente in pesci sa che a volte passa da un eccesso di autocontrollo ad uno sbraco totale nel senso che si lascia andare vive le emozioni in maniera molto emotiva saturno in pesci vi chiede di scegliere bene di essere maturi responsabile di scegliere il meglio quindi ci vuole anche il tempo un po' un po' no ci vuole un po' di di presenza di spirito per osservare se una persona ha solo una bella apparenza un bell'aspetto se balla bene se bacia bene se fa bene altre cose ma poi se si comporta anche bene quindi non abbiate fretta scegliete il meglio non sprecate cioè non cadete in quel pessimismo tipico dell'ascendente vergine e anche di altri valori in vergine per cui vabbè sarà la solita fregatura chi se ne frega andiamo quindi non se arriva il belloccio impegnato non sprecateci tempo se arriva quello che si sono di passaggio poi domani riparto per lo zambia non sprecateci tempo di ragazzi questa è la seconda che ho detto se è impegnato lasciate perdere proprio vi prego o la posta intasata non ci perdete neanche tempo perché basta passa il transito e rimanete lì no insomma poi è questo un grosso treno per impegnarsi per fare le cose per bene quindi scegliete con con buon senso per quanto riguarda quello che passa adesso sta una settimana è perfetto va in zambia non è detto che avendo inventato gli aerei voi non possiate raggiungerlo non possa tornare tenetelo in considerazione ecco cioè non escluderlo a priori però ovviamente visto che abbiamo la fortuna in quest'epoca di avere telefoni social videochiamate una persona che ha una vita trasparente che non ha niente da nascondere che ha buone intenzioni ha dei social aperti posta delle cose quando vedete delle situazioni in cui non si può controllare assolutamente una persona e magari anche molto lontana insomma siate responsabili e maturi da capire che magari insomma no potrebbe avere anche una una vita nel posto lontano dove sta ok quindi siate responsabili perché saturno nel prossimo anno vi porta l'amore e ovviamente un saturno in settima se non ci sono contratti dovrebbe portare con grande soddisfazione anche dei contratti lavorativi che addirittura poi nel 2025 questa vera spoiler o potrebbero darvi delle grandi occasioni di carriera il 2025 per l'ascendente vergine è un strepitoso ma anche il 2024 ragazzi anche per il lavoro non scherza quindi perché per chi non ce l'ha le opportunità inevitabilmente arriveranno perché c'è un cielo assolutamente strepitoso ricordatevi che saturno in pesci fa allora anzitutto congiunge nettuno quindi voli pindarici le nebbie le confusioni dovrebbero essere un attimino gestite meglio no affrontate in una maniera più razionale fa un ottimo aspetto con urano queste le opportunità sia sentimentali che economiche ottimo aspetto con plutone ottimo aspetto con gioventoro che arriverà e tutta questa manna dal cielo in ottimo aspetto al vostro ascendente quindi amore e lavoro proprio non dovrebbero far sentire la loro mancanza io non vedo l'ora che arriva marzo quindi non vedo l'ora che arrivi marzo quindi impegnatevi aspettate siate propositivi siate positivi con i piedi per terra e molto probabilmente avrete tutto quello che desiderate in bocca al lupo